Andare a coprirlo Gellert L'uomo è invece rimasto indietro Mamma mia E poi cosa fammi con l'uomo? È andato a centrare la porta di... Ma questo è fatto male Mamma mia Questa è la presa secca, questa la rivediamo Ha sbagliato completamente la curva, ha centrato la porta con il braccio Non una gran scena Questi sono due minuti questi Due minuti? Questi sono due minuti per spostamento volontario di porta Io vi ridarei, attenzione perché Ormai sono due minuti netti Sveglia Bauchi diceva anche qualcuno Questa è colmo Lo rivediamo E vabbè